Ciao ragazze, outfit of the day per un mite pomeriggio estivo, la location è molto on the ground, possiamo dire, ma va benissimo così. Allora, magliettina Terra Nova, di cui vi parlavo in un precedente video, acquistata a 12,90€, jeans acquistati in questo inverno da ProMod, in saldo, vita alta, zampettina, i sandali ai piedi sono quelli di Piazza Italia, gialli, e completo tutto l'outfit con un blazer blu di lino, di mango, acquistato in primavera, leggero, ma comunque utile per queste giornate un po' particolari. Borsa Witton, occhiali Master Club, Clubmaster di Ray-Ban, e accessori Tiffany, prevalentemente Tiffany, catena, perle, bracciali, e Inspired di Dior, le orecchie, e nulla. Vi lascio con un caro saluto, vi faccio vedere un po' com'è nell'insieme. Ciao ciao! Ciao!